Siete sicuri di tornare a fare la licenza? Noi vogliamo cercare di tenere il migliore della scuola, ma stiamo facendo un'altra cosa, che è quella di certi ruoli che magari fanno di affare anche per i quali. Allora, esiste un problema, i giocatori, i processi, nella paranza ci sono società interessate di seriano e magari anche estere, per cui diventa un problema magari riuscire a tenere, se intendessero amare i certi tipi, quindi questo è fuori di scuola. Nel caso di Guaretto e di Guaretto, che abbiamo subito recuperato, secondo noi un grande giocatore che bascia. Quindi noi, lo schema della squadra, di dove dobbiamo rinforzare, è chiaro. Stiamo facendo delle trattative, perché poi è anche difficile, è un mercato molto difficile questo, difficilissimo, io non pensavo ci fosse una situazione in questa natura, però lo stiamo portando nel miglior modo possibile. La volontà assoluta è quella di fare una squadra estremamente competitiva. Nei posti dove pensiamo di rinforzare, non è un altro tempo. La nostra idea è quella di mantenere per gran parte l'interventura già esistente, perché il lavoro chiaramente sarebbe più snello, anche perché ci sono dei giocatori che sono dei giocatori che conosco pure per trovare l'arte. Quelli che non conosco, come se li conosco qualmente, perché sono giocatori che hanno fatto sempre bene. L'idea nostra è quella, dovreste esserci qualche, come diceva il Presidente, qualche defezione socialitaria per ovvi motivi, insomma. È chiaro che chi non ha le giuste motivazioni, perché a noi ci aspetta un partenale molto e molto difficile, quindi chi non ha le giuste motivazioni dovremmo valutarlo bene, però non credo che da quelli che saremo oggi, insomma, ci sarà un grosso cambiamento al limite. Non è detto, eh? Sovrappando avviene un pezzo, ma non è neanche detto. E comunque, qualora questo avvenisse, credo che lo andremo a sostituire con un giocatore all'eguato, come è stato per guarente, perché Bascia io l'anno scorso l'ho vissuto da avversario, e noi siamo i migliori centrosampisti, l'anno scorso è stato uno dei migliori centrosampisti del nostro campionato. E quindi da questo punto di vista credo che non ci sarà.